Allora abbiamo detto i vecchietti del Barlume, protagonisti del libro di Malvaldi, ma ci sono anche altri vecchietti. Sarà un caso, forse no, li abbiamo voluti mettere assieme. Il prossimo gruppo dei vecchietti costituisce la banda degli invisibili. Questo è il titolo del nuovo libro di Fabio Bartolomei, pubblicato sempre da EO, e che racconta in particolare questo gruppo di persone. Al centro c'è Angelo, un ex partigiano che sopravvive con la sua pensione, ma che si deve far valere continuamente contro una realtà che lo circonda e che non è proprio particolarmente amica degli anziani. Insieme ai suoi amici sembrano più una banda anche di adolescenti, perché fanno cose particolari come vendicarsi verso il mondo, per esempio attraversando lentamente le strisce pedonali, specie quando passano le auto blu per far inviperire i politici a bordo, oppure quando abbattono un bambino insolente, particolarmente cafone, con una Coca-Cola diciamo truccata con la grappa. Ecco, questo gruppo di persone passa la sua vita all'interno del circolo degli anziani, ma progetta una sorta di riscatto anche, di reagire anche a questa realtà che per certi aspetti li opprime, proprio prendendosela con l'uomo più potente del paese e organizzando, cercando, progettando attorno a quest'uomo un piano d'azione. Ma cerchiamo di capirne di più di questo libro, anche molto comico, molto divertente, con l'autore Fabio Bartolomei. Buonasera. Buonasera. Allora, Fabio Bartolomei, partiamo da questo dato, cioè la scelta di dedicare un libro e di renderli protagonisti proprio un gruppo di anziani. Oggi nel nostro paese si dice spesso l'Italia è un paese di vecchi, è un paese in cui forse è troppo presente, sono troppo presenti i vecchi. Perché scegliere questo gruppo di anziani, i protagonisti della banda degli invisibili? Eh beh, guarda, in realtà, proprio perché invece ho avuto la sensazione che fosse un po' fuori moda. C'è l'emergenza sociale, giustamente, insomma, delle nuove generazioni, il problema degli anziani sembra quasi archiviato, risolto o comunque non così rilevante. Se un altro per il fatto che loro hanno la pensione, cosa che probabilmente non sarà garantita alle generazioni future. Quindi in realtà è una situazione drammatica, un tema che mi affascina molto, perché mi piace il mondo degli anziani e è nata l'idea. Sì, vengono descritti anche nella loro vita quotidiana. Mi incuriosiva sapere, insomma, il punto di osservazione, cioè se è un lavoro così di osservazione a distanza o se frequenti anche, proprio anche magari per curiosità, mondi di persone anziane, almeno solo per l'idea del libro e poi per scriverne. Circoli di Anziani, sei andato a documentarti nel Circoli di Anziani? Guarda, io sostanzialmente sono stato uno dei tanti bambini fortunati fino agli anni 60 che sono nati e cresciuti con i nonni in casa. Per cui ho scoperto subito questi meravigliosi contenitori umani di storie e mi è rimasta poi la voglia che ho tutt'ora di parlare con gli anziani ogni volta che ne ho l'occasione. Non mi sottraggo mai. Per quanto riguarda invece il discorso frequentare o meno Circoli di Anziani, diciamo che ho frequentato ma esternamente quello della Montagnola, che è il quartiere di Roma nel quale si svolge la storia. Mi sono messo lì da osservatore ma non sono mai voluto entrare. Ecco, ogni tanto qualcuno di questi, di cui un gruppo di amici che ruota attorno ad Angelo il protagonista, ha dei confronti con generazioni più giovani e anche in due battute gli ricorda come dire tutta la storia che c'è stata e tutta la fatica che ha fatto una certa generazione dalla guerra in poi per costruire questo paese per poi arrivare alla situazione attuale perché, non l'abbiamo detto, il piano di riscatto degli arzilli vecchietti è quello di prendersela direttamente col Premier Silvio Berlusconi. È un piano, diciamo, senza anticipare troppo per rapirlo. C'è un po' di rivendicazione anche da parte di questo gruppo di anziani di tutto quello che hanno fatto rispetto all'oggi. Certo, ma sì, voglio dire, persone che hanno dato tanto per il paese, ex partigiani, persone che insomma a vent'anni hanno rischiato la vita, proprio poi immaginarsene di fronte alla televisione ad ascoltare non solo una barzelletta di troppo ma anche, sai, il ministro che la sera compare e ti dice che il problema della crisi e del debito pubblico è perché gli italiani hanno vissuto al di sopra dei loro mezzi e poi dopo, la mattina dopo, in Parlamento a votare contro la riduzione degli stipendi sono tutte cose. Ecco, ti immagini come può reagire una persona del genere di lì a scrivere il libro. Però è un libro molto divertente, molto comico, diciamo molto ironico anche con una certa tenerezza nostalgica, diciamo così, nei confronti di questo mondo degli anziani che, voglio dire, sembrano però anche un po' degli adolescenti. Dallo scherzo sulle strisce pedonali alle auto blu a, come dire, le nostalgie d'amore del protagonista verso la sua amica Lauretta. Insomma, ci sono tante situazioni che, leggendo, sembra di leggere di adolescenti però. Sì, sai, poi gli anziani hanno anche questo di bello, che in realtà nei loro metti 80 anni di storia poi in realtà appunto racchiudono varietà. C'è l'anziano che è molto infantile, c'è l'anziano che torna adolescente e che comunque è il bello, secondo me, del loro carattere. Va bene, il piano, diciamo, naturalmente abbiamo detto, sono anche quadri ironici di vita quotidiana. Dentro questo piano generale complessivo, il tentativo verso nei confronti del Presidente del Consiglio, allora Berlusconi, poi le cose sono un po' cambiate nel frattempo, ma comunque è divertente da leggere lo stesso e un po' richiama, diciamo, la tradizione delle bande della commedia all'italiana, dalla banda degli onesti ai soliti ignoti, questo lo possiamo dire, insomma, a quel tratto lì, ai lettori, il piacere di scoprire come andrà a finire il piano degli arzilli vecchietti, della banda degli invisibili, questo è il titolo del romanzo che ha scritto Fabio Bartolomei, che pubblica con E.O. e che esce domani in libreria. Grazie Fabio Bartolomei. Grazie.